esatto ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Gaetano di Gaetano il suo canale DeRosa e oggi ragazzi siamo sul nuovo gameplay di pixel gunner allora come potete vedere ragazzi mi sono cambiato la skin perché io non me ne ero assolutamente accorto che nello scorso gameplay ero femmina ma vabbè poi ragazzi non ci stanno solo queste skin ci sta questa 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 che è molto bella questa che è un po particolare e poi c'è quest'ultima ma vabbè ok oggi ragazzi allora ragazzi nello scorso gameplay siamo andati a giocare nella death city ora andremo a giocare nel coro nel colosseo allora ragazzi vi volevo dire una cosa allora questa diciamo che è una mappa un po difficilotta non solo perché i mostri spawnano subito ma anche perché vabbè è un po grande quindi ci saranno molti mostri ah ragazzi volevo farvi vedere una cosa volevo farvi vedere una cosa allora guardate c'è anche la funzione auto fire ovvero che vi fa sparare in automatico e ragazzi come e che cazzo ho vabbè già abbiamo cominciato male ma vabbè ragazzi allora come vi ho già spiegato c'è la funzione auto fire ovvero che vi fa vi fa sparare in automatico e vi fa anche prendere la mira bene ok così non vi stancherete troppo a uccidere i mostri ma poi ragazzi voi non potete capire quanti mostri c'è quante volte sto per me quante volte sto perdendo in questo momento c'è e ragazzi questa in effetti è una delle mappe più difficili del gioco perché poi ragazzi qua talmente di quei mostri poi ti uccidono subito e per questo qua bisogna essere molto attenti non bisogna mai abbassare la guardia granata oh mannaccia la miseria mannaccia eh sì sì ma pure i mostri giganti perfetto ah ma porca miseria proprio proprio nel momento in cui ho rimesso il video sono morto ma vaffanculo vabbè adesso sicuramente tutti tutti quanti avrete capito il livello di difficoltà di questa mappa veramente ragazzi è difficilissima voglio sapere veramente chi è riuscito a restare in piedi fino c'è veramente voglio sapere praticamente perché è un gioco da ragazzi questo colosseo perché ragazzi è una mappa difficilissima cioè i mostri spawnano subito e sono di più cioè ma come ma come si fa a vincere in questa mappa troppo difficile ragazzi l'unico modo per scavare allora ragazzi vi insegno un trucco l'unico modo per non farvi prendere subito dai mostri è quello di saltare allora vabbè qui devo spare devo usare tutte le granate che ho mamma mamma e qua chi ho fatto vabbè mamma mia ragazzi sto facendo un macello voi non ve ne sto non ve ne state accorgendo perché io ogni tanto stop il video ma qua sto facendo un macello cioè è veramente impossibile guardate poi i mostri diventano piano piano molto veloci e mamma mia ma fammi prendere i blocchi fammi prendere i cazzo di blocchi e vabbè vabbè ma guardate neanche il tempo di stoppare il video raga ma come si fa aiuto aiuto e vabbè 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 e vabbè che ce ne frega dei biscotti per cani vabbè comunque ragazzi il video di oggi finisce qui mi raccomando iscrivetevi a ghietano e il suo canale dei rosa e attivate la campanellina per le notifiche per non vendervi nessun video e mi raccomando ragazzi seguitemi anche su tiktok che è anche quello importante iscrivetevi a mario gamer 68 e seguitelo pure su su tiktok mi raccomando vabbè noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo gameplay di pixel gunner ciao